Fin da subito di riavvicinare il proprio pubblico alla squadra e anche testimonianze del fatto che tutti gli alberghi della valle di Mitrofi, poi a Pontilegno, sono pieni ormai da settimane, significa che c'è voglia di normalità e c'è voglia di Sampdoria. Tu hai fatto molti ritiri, ovviamente la maggior parte con la Sampdoria ma poi anche in altre esperienze a Bari, a Firenze e poi di nuovo con la Sampdoria. Oggi ho scritto un commento sul sito di Primo Canale dicendo che si respira un'area nuova alla Sampdoria, cioè antica, il ritorno di un certo stile che senza voler riaprire pagine precedenti forse però era andato un po' desueto. In base alla tua esperienza che tipo di ritiro si sta vivendo in questo momento qui alla Sampdoria? Dal punto di vista della squadra è un tiro fortunatamente tranquillo, quindi non abbiamo avuto intoppi a livello fisico che credo sia la cosa primaria durante la preparazione estiva. Poi per adesso sarà, come abbiamo già detto più volte, una stagione anomala perché il fatto comunque di giocare tante partite ravvicinate da qua a novembre, la lunga sosta, anche per lo staff tecnico sarà particolare la preparazione di questa stagione. Finora le cose stanno andando bene, il fatto appunto di avere comunque tanta gente che ci segue è uno stimolo in più per tutti. Tu fai parte di un gruppo dirigente rivestendo due ruoli apicali, responsabile come team manager dei rapporti tra la squadra e l'esterno, i vari settori della società, e come responsabile della comunicazione ovviamente sia con i mezzi di comunicazione ma anche con l'opinione pubblica sampdoriana di cui i mezzi di comunicazione fanno solo da tramite. È un momento importante, forse cruciale, potrebbe esserci anche una svolta societaria, voi dirigenti come la state vivendo? Sicuramente c'è chi è preposto a seguire questo tipo di situazione che è appunto il dottor Vidal con il CDA, noi cerchiamo di rimanere abbastanza neutri sulla questione, ad oggi noi non abbiamo avvisaglie diverse da quelle che sono state negli ultimi mesi, ovviamente seguiamo la vicenda con interesse, ma l'unica cosa come antistimoniante è che i ragazzi, le interviste che ti hanno rilasciato in questi giorni, loro avevano con assoluta serenità, attesa ma con serenità. Hai dovuto gestire molti calciatori, molti allenatori in questi anni, nella Sampdoria ma anche nelle altre squadre, qual è quello più difficile che ti è capitato? Senza ovviamente voler puntare il dito su nessuno ma dal punto di vista caratteriale. No, credo non ci sia dubbio alcuno che Antonio Cassano mi abbia fatto dedicare parecchie ore di lavoro e poche ore di sonno alla sua gestione, però non dal punto di vista negativo, è sicuramente stato un ragazzo molto impegnativo dal punto di vista della comunicazione, del seguirlo, però sono state anche tante le soddisfazioni che mi ha dato personalmente, oltre ad aver creato un'amicizia che dura ancora oggi, le soddisfazioni dal punto di vista lavorativo e credo anche calcistico perché credo che negli ultimi 15-20 anni sia stato il giocatore più forte che abbia vestito questa maglia, poi con tutti i suoi limiti, le sue pazzie comportamentali credo che abbia fatto divertire parecchi tifosi da Sampdoria. Alberto Marangondi, origine veneta ma ormai genovese adottivo. Sono arrivato qui nel 2002, poi questa è la mia 14-15 stagione in Blu Cerchiato, le mie figlie sono nate a Genova, mia moglie è genovese, quindi comunque un legame forte con la città di Genova c'è. E anche con la Sampdoria, al di là del fatto che poi la professionalità si mette al servizio di chiunque la proponga. Noi siamo dei professionisti che ovviamente mettono a disposizione la propria professionalità, le società che ci chiamano. È indubbio che 14 anni di militanza in una società rafforzano inevitabilmente il legame, perché sono arrivato qua che ero un ragazzo, oggi sono un uomo, è ovvio che i colori della Sampdoria comunque mi rimangono dentro. In chiusura, prima di dare appuntamento dunque alla presentazione ufficiale della Sampdoria questa sera, qual è il ruolo del team manager? Di che cosa si occupa di preciso? Tanto dipende dalla tipologia di società, perché le società magari più grosse hanno vari compiti che sono suddivisi tra varie figure. In una società media come può essere la Sampdoria, il team manager, praticamente aspetta il compito di tutta l'organizzazione che gravita intorno alla squadra, quindi le trasferte, le partite in casa, i ritiri, i ritiri estivi, i pullman, gli aerei, gli alberghi. In casa, poi durante la settimana provvedere che non manchi niente al centro sportivo di Bogliasco per l'esplettamento della giornata di lavoro, sia dei calciatori, staff tecnico, magazzinieri, fisioterapisti, essere a disposizione dei calciatori per tutte le esigenze anche extracalcistiche come le abitazioni, le scuole di figli, un ruolo operativo, logistico, organizzativo. Comunque si fatica meno che dover tenere a bada i giornalisti, o no? Sì, non mi mancava sinceramente, però la società mi ha chiesto un aiuto in questo momento di transizione, non ho potuto fare a meno di rispolverare il mio vecchio ruolo, in alcuni casi non mi siete mancati. Non so se per chiudere Matteo, che tra l'altro ha lavorato con Alberto Marangonna, ha una domanda da rivolgerli. No, guarda, gli voglio dare soltanto un forte abbraccio e lo ringrazio tanto per l'aiuto che ti sta dando e che ci sta dando. Noi l'aria nuova l'abbiamo già sentita fin da subito, ma non lo voglio mettere in difficoltà, quindi gli chiedo solo di accettare questo mio complimento e basta. Solo un complimento, un abbraccio, un ringraziamento anche per il supporto che state dando a Primo Canale e per il lavoro che con la tua squadra state svolgendo. Credo che sia doveroso, quando comunque delle aziende investono la Sampdoria per seguire il ritiro, l'hai detto tu prima, voi siete un tramite importante con i tifosi della Sampdoria, date l'opportunità a tutti quelli che non possono venire qui in valle di seguire la Sampdoria, quindi è un piacere nel rispetto reciproco delle aziende per cui lavoriamo poter collaborare. Ti saluto anche io calorosamente Matteo. Grazie a tutti.